Si riaprono le ali dell'autostart di questa quinta corsa del pomeriggio, il Gran Premio saranno famosi di visione femminile. 13 le concorrenti a sfidarsi sul doppio chilometro, quindi sui due giri di pista completi. La macchina staccherà qui sotto le tribune e le cavalle faranno due giri completi. Ultima ad arrivare Eloida. Con il gioco che si è chiuso e ha in Everwise AS il punto di riferimento di contro Eva Kant Jo e Eternal Hope. Queste sono le tre più chiacchierate, almeno per quanto concerne le quote e i pronostici degli scommettitori. Le luci si accendono. Allo steccato Eva Luna Pax, Eleko Dindal, Eletta Star, Everwise AS, Elixia, Extra Bar, Eloise Gar in prima fila. In seconda fila ci saranno Eva Kant Jo, Elsa Killer Gar, Eternal Hope, Eloida e Speranza SSG ed Erga Omnes Par. Eva Luna Pax non ne vuol sapere e galoppa prima del via. Lasciando un posto ad Eva Kant Jo che si ritrova a partire molto svelta dalla seconda fila, ma è Elixia la più veloce allo stacco che va in avanti proprio su Eva Kant Jo all'esterno Everwise AS a largo in diagonale, Extra Bar. Nelle prime posizioni anche Eletta Star, Elixia passa i 200 di gara in 14 e 2. In vantaggio l'allieva di Filippo Gallo, arriva ora Vincenzo Gallo con Everwise AS che va a bussare alla porta di Elixia dopo 400 in 29. Insiste Everwise AS al lato di Elixia e gradatamente ottiene il via libera e così due Gallo nelle prime due posizioni. Vincenzo avanti a Filippo Everwise avanti ad Elixia in terza posizione Eva Kant Jo precede Letta Star e le cavalle completano la seconda curva. Eva Kant Jo si tiene larga per avere la destra libera e ora sposta definitivamente dalla terza posizione, lascia sfilare Eternal Hop che viene via cattiva davanti alle tribune e rileva al comando inaspettatamente Everwise AS al passaggio del primo giro in 1'14 e 9. Eternal Hop nuova leader su Everwise AS, poi all'esterno Eva Kant Jo che offre punto di riferimento ad Extra Bar e poi Esperanza SSG in terza pariglia, il paletto in curva in 15.6 da parte di Eternal Hop che è in vantaggio, qualche problemino per Everwise che non riesce a stare al passo delle colleghe, allunga la leader Eternal Hop su Eva Kant Jo che parcheggia per un attimo alle sue spalle, poi Extra Bar la frazione di line 14.4, ora Eva Kant Jo insiste in maniera più convinta all'esterno di Eternal Hop, due minuti e uno spicciolo il miglio, Eva Kant Jo viaggia molto meglio di Eternal Hop e sembra poter passare sull'avversaria, poi c'è Esperanza SSG a largo di tutti, Eloise Gar e lì vicino anche Letta Star, Eva Kant Jo, c'è solo una cavalla in pista, Alex Gocciadoro mette il sigillo anche a Foggia nel Gran Premio, saranno famosi versione femminile al secondo il 13 di Esperanza mentre la lotta per il terzo dovrebbe essere appannaggio di Letta Star su Elsa Killer Gar la rivediamo Eva Kant Jo per la scuderia Bivans, al secondo il 13 di Esperanza, al terzo sì il 3 di Letta Star su Elsa Killer Gar, quarta e al quinto Eloise Gar, Eva Kant Jo per i colori della scuderia Bivans e Alessandro Gocciadoro nella società di allenamento al training e Alessandro Gocciadoro che è il perfetto interprete della figlia di Vivid Weiss AS e diamo un merito anche ad Edoardo Baldi che è stato il mentore di questa puledra fin dalle prime corse della carriera, cavalla che oggi dimostra di essere una cavalla importante, si afferma in 2.29.4 e quindi una media che si aggirerà intorno all'1.14.6, 1.14.7 o giù di lì Linea a Roma